Andiamo? Oggi siamo ai Musei CVC San Domenico di Forlì. All'interno del museo vediamo la Dama dei Gersonini di Lorenzo di Credi e poi la natività e la preghiera nell'orto del Beato Angelico. Alle mie spalle la crocifissione di Marco Palmezzano, allievo di Melozzo da Forlì. E qui ho trovato anche un'opera di Tiburzio Passarotti. E una di Ludovico Carracci. Ciao! 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 Grazie a tutti.